Roberto Pruzzo non ha bisogno di presentazioni, però dobbiamo dire che è il nuovo di essere del Como. Primo giorno di ritiro della squadra, le tue impressioni e come può crescere questa squadra? È il primo giorno di scuola, io sono qui per dare i voti e le paggelle di questi giovani che devono dimostrare di poter far parte del Como. Io spero che loro sappiano cosa si stanno giocando, è chiaro che siamo all'inizio, ci sarà molto da lavorare, però dobbiamo già avere le vie chiare e fare delle scelte che saranno anche dolorose ma necessarie. A di un campionato in cui i giovani soprattutto sono determinanti, no? Sì, ma io penso giovani di mezzo a età e di anziani, bisognerà trovare il sistema di avere una magma tra questi componenti e mettere insieme una squadra che possa andare avanti, che possa avere delle ambizioni. Una parola sul mister, è molto conosciuto negli ambienti dilettanti, un po' meno a Como, cosa ci puoi dire? Che di Lucca, che abita a Lucca come me, che non lo sapevo, però mi sembra un uomo molto pratico, che conosce la categoria e non solo quella e quindi è un valore aggiunto. Perfetto, grazie mille. Prego. Grazie. Grazie.